Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto con me. Non farò niente di eclatante in realtà, anzi. Adesso in realtà mi devo sbrigare perché devo uscire, mi vedo con una mia amica e faremo colazione insieme. Anche se in realtà sono le 10 e 28 in questo momento e io ho già fatto colazione stamattina. Quindi quella che farò tra poco alle 11 o l'appuntamento sarà una seconda colazione. Però adesso, prima di uscire, devo esportare il video che ho finito di editare, che devo pubblicare oggi, che sarà la lezione su Cine e Lo. Poi quando torno a casa, in realtà, devo finire di fare l'immagine di copertina, mettere i sottotitoli, eccetera, eccetera. Ma prima di tornare a casa vorrei riuscire a passare al supermercato, perché il mio frigorifero è quasi vuoto. Quindi vorrei riuscire a comprare qualcosa per pranzo e anche per cena stasera. E poi oggi pomeriggio ho lezione su Skype. Fortunatamente è una bella giornata di sole, è molto molto bella. Non fa freddo e adesso sto andando a piedi al luogo d'incontro con la mia amica, perché non è lontano. E così ne approfitto per fare due passi, visto che oggi starò tutto il pomeriggio seduta. Mi conviene camminare quando posso farlo. Un macchiato. Caffè macchiato. Caffè macchiato, sì. E non so se hai dei cornettini piccoli, qualcosa. Cornetti, parliamo. Aspetta, i cornettini. Allora, cioccolato cornette, nutella o cioccolato bianco? Beh, io farei nutella. Qualcosa leggera. Per me invece sei già una crostatina o qualcosa con la tastura. È arrivato il macchiato, il cornettino, la crostatina. Ebby, cosa hai preso? Caffè americano. Caffè americano. Perché sono americana? Che ti posso dire? Stiamo al mercato. Ah, le castagne. Ti piacciono le castagne? A me non tanto. Sto ne prendo due rosette. Ho comprato un po' di verdura, il latte, il pane, un po' di prosciutto, dopo vi faccio vedere. E adesso devo tornare a casa. Adesso è mezzogiorno e un quarto. Andiamo qua. Ho preso al mercato due peperoni. Poi ho preso delle zucchine, delle zucchine romanesche, del prosciutto crudo. Poi ho preso le rosette, che è questo pane qua. Ho preso della pizza bianca. Questa è la pizza bianca. Una bottiglia di latte. Questa è la mia spesa al mercato. Ovviamente non è una spesa vera e propria, perché ho comprato solamente alcune cose. Allora, per pranzo voglio fare una cosa molto veloce, quindi farò un po' di pasta con ricotta e zucchine. Le zucchine che ho comprato stamattina al mercato. Con questo tipo di condimento, zucchine e ricotta, preferisco una pasta corta, perché così raccoglie meglio tutto il condimento. Pennette rigate. La cottura della pasta è sempre scritta sulla busta. Questa cuoce in 11 minuti, però io la tengo sempre un minuto in meno del tempo indicato sulla busta, quindi conto 10 minuti. Allora, intanto che la pasta si cuoce, finisco di sistemare il video che devo pubblicare oggi. Non so se vi interessa, ma questa è come la schermata quando si carica un video su YouTube. Qua c'è la descrizione. Qua devo mettere la miniatura, che sarebbe l'immagine di copertina. E qui devo metterlo nella playlist. Lo mettiamo qui nella playlist Cinello. E poi altre opzioni, qui ci sono i tag, l'italiano, l'istruzione, va bene. Devo un attimo sistemare il titolo. Mancano pochi minuti. Quello che farò è mettere un paio di cucchiai di ricotta nelle zucchine e poi aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta, così da amalgamare il tutto. Questo è il risultato finale. Allora, mi sono cambiata perché così sto molto più comoda, anche perché sarò tutto il pomeriggio a casa, quindi. Io si stavo un attimo nella cucina e poi mi metto al computer. Questa è la mia collezione di piante grasse. Anzi no, non sono piante grasse, sono succulente. La mia collezione di succulente. Sono cresciute tantissimo. Facciamoci le coccole. Ci vogliamo pettinare? Sì? Mi faccio una cialda di decaffeinato. Potrei addirittura farmi il caffè leccese perché ho il latte di mandorla in frigo. Poi comunque la pasta avanzata o la facciamo bruschettata domani al pranzo o la frittata di pasta. Sì, però adesso ci sto facendo io qua. Che devi fare? Ma dai, la rosetta. E poi no, mi stai facendo perdere tempo. Cosa? Ecco. Guardi il macello che hai fatto. Sai che sei il primo gruppo rap italiano? Di giunelli diversi. No. Non lo so. Di sangue misto. Mai sentito. Un po' di neffa. Ah, tornando a noi. Farò un caffè leccese decaffeinato. Non so, i puristi del caffè avrebbero qualcosa da ridire forse. Anche io sono sempre stata contro il caffè decaffeinato in realtà. Perché non è che sia buono il caffè decaffeinato. Ma me lo bevo lo stesso perché è ormai diventata una sorta di droga. inserita il caffè... Ho finito le lezioni per oggi, come vedete è diventato buio fuori. Sì, ho passato molto tempo davanti al computer e adesso devo mandare tutti i materiali e gli esercizi per le prossime volte e poi ho finito. Poi in realtà devo portare fuori il signorino che dorme qui perché deve fare una passeggiata e deve anche fare i bisogni. Abbiamo fatto una passeggiata e adesso lui è tornato a casa e vuole giocare. Ciao a tutti, io sono FAMAS, sono un cane corso e ho quattro anni. Va bene, adesso devo pensare alla cena e sinceramente non mi va di pensare alla cena. Ad essere sincera con voi mi ordinerei qualcosa, però no. Perché devo mangiare le verdure che ho in frigo, altrimenti vanno a male e non si può sprecare il cibo. La mia idea è quella di farmi un panino con peperonisca. Buonanotte. Buonanotte